Allora, adesso la faccio io una domanda per Ace. Ace, tu pesi il cibo o conti le calorie? Cioè ti faccio fare qualcosa di queste cose? A dire la realtà io non peso niente, mangio quello che mi dice gli ada e mangio anche tanto. L'importante è che ho la parte, metto insieme, sempre una parte proteica. La calorie non ho mai contata e non la conterò mai. Anzi, facendo così, mangio tanto, bene soprattutto, e alla fine non ingrasso mai. E le calorie non accettano veramente zero. Perché, non perché me lo dice lui, perché i fatti sono questi. Top! Come dice Ace, il grande leone, che ormai è diventato anche un tecnico della nutrizione, ne sa veramente tanto, è uno dei miei atleti storici più esperti di nutrizione che ho avuto nella mia professionale lavorativa di 22 anni, sa benissimo che io non faccio pesare nulla e non faccio conteggiare le calorie. Non lo faccio con gli atleti professionisti, anche perché non avrebbero la possibilità di farlo, soprattutto atleti di Endoros, atleti di questo livello, ma non lo faccio nemmeno con la signora Maria, che deve magari dimagrire. Perché? Perché il pesare il cibo e percorare le calorie è una tecnica dietetica, che io, fondamentalmente, nella pratica quotidiana, faccio fatica a mettere in atto e quindi non la prescrivo. È una tecnica dietetica, la più conosciuta al mondo, la più facile da gestire, deficit calorico, quindi tanto entra, io cerco di fare in modo, di far uscire un quantitativo maggiore di calorie consumate e teoricamente dovrei avere un calo di peso se voglio dimagrire o altro. Diciamo che le cose poi non stanno realmente così, la teoria calorica fa molta acqua e oggi, appunto, noi sappiamo che la sequenza di ciò che mangiamo ha un effetto metabolico molto importante a parità calorica, sappiamo che l'abbinamento di alcuni macronutrienti ha un'importanza metabolica molto importante, sappiamo addirittura che chi porta avanti il concetto che ci è stato insegnato all'università, a noi tecnici della nutrizione che possiamo parlare di nutrizione, quindi in questo mondo tutti parlano di nutrizione, ma prima guarderei chi è un tecnico che fa pratica clinica, perché anche lì ci sono alcuni professori o comunque alcuni tecnici di altre materie che non fanno pratica clinica. Non avendo pratica clinica le cose cambiano totalmente, quindi si affinano alla migliore teoria e allora magari anche una tecnica dietetica piuttosto che un'altra potrebbe diventare la migliore teoria, poi la pratica clinica in realtà fa scoprire tante cose e anche tante cose diverse dalla migliore teoria. Quindi detto questo, anche chi prescrive diete ipocaloriche cosa deve fare? Dopo aver fatto il conteggio matematico calorico, voi sapete che deve anche cercare di ripartire i macronutrienti in una maniera adeguata e quindi anche questo significa che anche chi fa diete ipocaloriche, che io rispetto e stimo perché comunque porta avanti una disciplina in una maniera precisa al netto del fatto che può prescrivere quindi a un tecnico e ha i titoli per poterlo fare, lo rispetto, però dobbiamo ricordare che lavora sui macronutrienti, quindi anche lui si affiderà alla qualità perché sa benissimo che i macronutrienti devono essere ripartiti per ottenere dei risultati perché se no non si potrebbe mangiare, se il mio fa bisogno calorico, è 2500 calorie solo di un macronutriente perché probabilmente non otterrei quello che appunto è stato progettato per la mia dieta specifica e quindi devono essere ripartiti nutrienti, allora a quel punto io personalmente nella mia professione da 22 anni con oltre 150.000 visite fatte ho scelto di fare un'altra strada e basarmi semplicemente sul cosa si mangia, come lo si mangia e quando lo si mangia. Tutte queste strategie penso che applicate possano dare dei risultati e appunto la storia in questo caso mi dà ragione per via del fatto che appunto ancora oggi ho la fortuna di seguire i grandi atleti. Detto questo un'altra cosa da tenere in considerazione perché non scelgo la via calorica, non scelgo la via calorica anche perché le tabelle nutrizionali sono diverse tra loro, la tabella nutrizionale in ultima francese è molto diversa anche di un 30% da quella italiana, perché anche nelle etichette nutrizionali ci possono essere ammessi errori anche di percentuali importanti, quindi il fatto di tenere conteggiati i macronutrienti non fa altro che apportare maggiore attenzione a quello che io mangio e questa attenzione porterà a un risultato, allora tanto vale apportare la nutrizione da un punto di vista qualitativo, sapere come abbinare i cibi e sapere una strategia di base che posso applicare per tutta la vita. Mi piace di più. Poi ognuno nella propria pratica clinica farà quello che crede e assolutamente rispettoso. Quindi Ace non ha mai pesato nulla e non conteggia le calorie, lui come tutti gli altri i miei atleti professionisti in 22 anni come tutte le persone che vengono da noi in ambulatorio. Se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici e seguimi sui miei canali digital. Ciao e al prossimo video!